L'impegno dell'Avis anche in tempi di virus continua e oggi qui a Porelli di Bagnara Calabra con l'auto e emoteca. Sì, buongiorno a tutti, anche oggi abbiamo continuato il nostro ciclo annuale, siamo venuti qui a Porelli presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli e abbiamo tenuto una raccolta straordinaria perché è stato possibile eseguire prioritariamente a tutti i donatori prenotati un test sierologico che ovviamente aumenta la sicurezza dell'atto della donazione. Il dottor Paolo Pensabene è anche un medico di medicina generale impegnato sul territorio, che situazione abbiamo in questo momento a Bagnara? La situazione a Bagnara è molto importante, abbiamo più di 100 positivi, in percentuale un numero considerevole, probabilmente questo è legato alle abitudini dei nostri cittadini che avranno sottovalutato in una prima fase la virulenza di questo nemico invisibile che è il virus Covid-19 che continuerà ancora per qualche settimana a imperversare, anche se a livello nazionale l'RT è in discesa, ma noi dobbiamo tenere alta la guardia. Fra pochi giorni sarà possibile anche a Bagnara effettuare i test, i tamponi rapidi, quelli che il Ministero ha delegato da fare ai medici di famiglia. Stiamo lavorando insieme a tutti i colleghi per creare un team con un protocollo da adottare per mettere in sicurezza, attraverso un'attività di tracciamento importante, tutta la popolazione. E in questo, devo dire, ci sono molto vicine le istituzioni, il Comune, l'Asp, ma anche la Prefettura, che hanno cercato in queste settimane di colmare le difficoltà organizzative di un territorio che purtroppo negli anni è stato spoliato ed è stato depotenziato. Oggi, infatti, la nuova ondata di coronavirus ha evidenziato nuove e importanti ragioni di impegno per dare più forza al territorio e quindi agli attori principali, che sono i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, ma anche gli specialisti ambulatoriali e i pediatri di libera scelta. Tutti insieme dobbiamo lavorare per far sì che il territorio lavori bene, mettendo così nelle condizioni di lavorare bene anche gli ospedali, perché se funziona il territorio funzioneranno anche gli ospedali. Oggi la Calabria è zona arancione. Quali sono, oltre alle norme, alle regole, a quanto stabilito dai decreti e ordinanze del Ministero della Salute, quali sono i consigli che si possono dare? I consigli sono di continuare a comportarci come ci viene consigliato, soprattutto dal proprio medico di famiglia, che rimane un punto di riferimento per la popolazione, perché così facendo noi daremo più sicurezza a tutte le attività e quindi eviteremo di creare dei danni all'economia e quindi sbloccheremo quello che possiamo ormai dire a piene parole la situazione anche strutturale dei nostri territori, che sono già poveri e che quindi hanno bisogno di una apertura e quindi di una messa in sicurezza che consenta la ripresa di tutte le attività. Ecco, l'Aves non solo raccolta sangue e sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione, ma anche per il siero iperimmune. Sì, si è parlato tanto in questi ultimi mesi del ruolo dei donatori che hanno avuto il coronavirus e che quindi possiedono nel loro sangue gli anticorpi protettivi per questa importante infezione. Dobbiamo dire che molto si sta facendo anche a Reggio Calabria, con il grande ospedale metropolitano, che sta curando la raccolta di questi soggetti. Ma occorre ribadire che la raccolta del siero iperimmune non rimane una priorità assoluta, che la priorità assoluta è sulla raccolta del sangue intero, in quanto si è creato negli ultimi mesi una piccola carenza rispetto alle richieste. E pertanto invito tutti i donatori a continuare a donare non solo per l'aspetto del siero immune, ma soprattutto per l'aspetto del sangue intero, perché da quello poi si può trarre anche l'eventuale trattamento di tutte quelle patologie che rientrano nel ventaglio delle opzioni di una donazione completa.